cari amiche cari amici ben ritrovati e ben ritrovati ancora una volta in uno di questi miei video oggi vorrei stasera vorrei parlarvi di uno dei miei fumetti preferiti c'è tex ecco sapete tutti che io ho passione per il fumetto il passione per i fumetti in generale ma in particolare tex insomma è uno dei miei preferiti e sono veramente lieto di presentarvi questo ultimo numero diciamo appena uscito in erico è uscito ieri che sinceramente mi è molto piaciuto vabbè a me le storie di tex piacciono tutte però questo in particolare mi ha preso ed è solo la prima parte attenzione sto parlando del numero 732 di tex la serie inedita tex gigante seconda serie inedita mensile il titolo di quest'albo è alla ricerca delle navi perdute si parte subito con questa diciamo come dire con questa bellissima cover di claudio villa il maestro maestro claudio villa che che strizza l'occhio diciamo ad alcuna cover del passato come afferma lo stesso claudio villa sul suo profilo facebook ho visto un suo post in cui parlava di questo di questo fatto è molto bella questa cover guardate veramente molto bella mi ero accorto che mi ricordava qualche cosa del passato e poi claudio lo ha confermato nel suo post comunque iniziamo subito con diciamo vi mostro la seconda di iniziamo diciamo con la seconda di copertina dove possiamo leggere i crediti i crediti e scopriamo che praticamente questa storia alla ricerca delle navi perdute vede soggetto a sceneggiatura a cura di mauro boselli il boss non poteva essere altrimenti una storia così bella insomma i disegni sono di uno spettacolare direi giovanni bruzzo poi vi spiegherò anche perché dico spettacolare la copertina come detto ricordo villa il lettere di luca corda altro pilastro della sergio bonello e insomma in seconda di copertina spicca tra l'altro la pubblicità del prossimo maxitex in uscita dal 16 ottobre il cui titolo sarà mississippi ring eccolo qua vedete bellissimo ovviamente imperdibile per tutti gli appassionati e subito dopo abbiamo la rubrica di graziano frediani la sola rubrica di presentazione dell'album ma che in questa circostanza più che presentare l'album in questione ci parla sia del maxitex in uscita sia dei due dei due dei due special diciamo delle grandi storie bonelle il primo il primo volumone uscito da poco ci ho fatto anche un video dedicato a zagor e il secondo volumone che uscirà diciamo a novembre a fine novembre sempre dedicato a zagor e anche come vi ho detto anch'io graziano frediani ci ricorda che questi due volumoni fanno la prologo allo speciale di tex wheeler in uscita a dicembre in cui zagor incontrerà il giovane tex wheeler ecco qui parla anche di questo dopodiché fa un breve prologo per quanto riguarda la storia in questione alle ricerche delle non le perdute perché questa storia mi ha colpito molto perché praticamente voi chi mi segue forse si ricorderà che è una delle mie storie le mie storie preferite di tex sulle piste del nord io sono affascinato da questi paesaggi del nord le foreste diciamo del canada in particolare dove si si sono svolte in passato diverse avventure di tex ma in particolare proprio questa sulle piste del nord del cui io posseggo un volumone ciò anche diciamo l'albo normale gli albi normali ma è in particolare questo bellissimo volumone cartonato delle grandi storie di tex sulle piste del nord con i disegni spettacolari oserei dire spettacolari di un claudio di un giovanni ticci al massimo diciamo dal suo diciamo dal suo talento artistico cioè secondo me con questa con questa sua opera ha toccato è arrivato proprio in cima diciamo alla sua ha toccato la cima della sua evoluzione artistica e come si può vedere da questi spettacolari spettacolari disegni guardate ecco che io ho amato tantissimo nel corso della mia carriera di appassionato lettore di tex per me questo diciamo è io ritengo che c'è la mia storia preferita ecco detto detto fra noi insomma gianluigi bonelli e giovanni ticci al top insomma imperdibile e perché vi parlo sull'episodio perché praticamente questa storia rivede praticamente tex carson kit e tiger in canada in soccorso di jim brandon e diciamo tutto inizia nel saskatchewan la famosa regione dove iniziò la famosa rivolta diciamo indiana praticamente te di cui si parla sulle piste del nord con i guerrieri fox e altre tribù eccetera che vengono in qualche si rivelano in qualche maniera in questa avventura ma a parte questo abbiamo a che fare con i disegni dicevo spettacolari di bruzzo che che strezza l'occhio ma non ma forse tutti e due gli occhi al diciamo allo stile allo stile di giovanni ticci per me è un grandissimo adesso che posso diciamo un po di tavole ma perché tex carson kit e tiger si ritrovano diciamo sulle piste del nord perché vengono chiamati come al solito in aiuto da jim brandon praticamente abbiamo a che fare con una con una vicenda che affonda le radici mezzo secolo prima quando praticamente due navi due navi diciamo britanniche l'aerebus e la terror erano partite per conquistare il passaggio al nord ovest ma si erano erano risultati dispersi nell'artico e dopo mezzo secolo proprio al tempo di tex e compagni praticamente una spedizione di militare diciamo una spedizione scientifica è composta anche da ufficiali non solo scienziati ma anche ufficiali inglesi e parte diciamo per sulle piste di questa di queste navi perdute nel tentativo di ritrovarle ecco alla guida fra l'altro tra l'altro di questa di questa spedizione ci saranno due vecchie conoscenze femminili in particolare sto parlando di down down per praticamente una ragazza figlia di un di un guerriero inuit e di una bianca che abbiamo conosciuto abbiamo conosciuto abbiamo conosciuto nel maxitex nei territori del nord ovest io non vi mostro la versione del maxx ma questo spettacolare volume diciamo cartonato che ovviamente gli autori erano sempre boselli e il disegnatore nella fattispecie la fonte in cui praticamente faremo la conoscenza della giovane down una scavezza collo da non credere ecco io vi mostro praticamente le tavole che insomma che la riguardavano a quel tempo ecco qui quando l'abbiamo conosciuta metto via il volumone era soltanto per mostrarvi insomma un po per farvi capire un po che si tratta di una storia che affonda radici anche nel passato in precedenti storie di tex oltre a down ritroveremo dallas dallas che è una pistolera e provetta che con la quale tex e carson e compagni e parsi avevano avuto a che fare in una vecchia avventura due bellissime ragazze in particolare sono due due bellissime ragazze ma stavo dicendo che dallas in particolare era sorella di un di un di un bandito ecco era una banditessa questo bandito che ha perso diciamo che ha perso la vita e che diciamo e che ha lasciato diciamo un segno nel è un segno abbastanza profondo nell'animo della sorella comunque queste due due vene scavezza collo sia dallas che che down alla guida di questa spedizione qui questo è diciamo il pantheon dei personaggi che ci aspetta ma veniamo praticamente a a mostrarvi queste spettacolari tavole dicevo di bruzzo che a partire dall'inizio ecco guardate ma è qui da sul sul video non posso prendere giustizia al buon bruzzo ma diciamo quando avrete le tavole in mano capirete perché insomma in qualche maniera quando ho detto che strizza l'occhio a ticci non ho esagerato perché lo stile di ticci è abbastanza diciamo come dire simile a quello a quello di bruzzo ecco diciamo ecco per dirla così veramente veramente ovviamente ritroveremo vecchie conoscenze all'interno del forte delle delle giubbe rosse insomma un'attimo sfera veramente bellissima io a me questa sera guardate qui guardate qui bellissimo ragazzi io quando leggo queste queste storie ambientate nel nelle foreste del grande nord comincia a sognare e comincia a sognare e vi posso dire anche l'ultimo dei moicani insomma quelle atmosfere lì veramente belle veramente belle e questa storia boselli boselli guardate è un genio secondo me è un genio il genio del fumetto italiano è mauro boselli è bravissimo guardate qui anche gli altri sono bravissimi sono bravissimi ma mauro insomma cioè secondo me belle pazienza non perché io l'ho conosciuto personalmente ma non è che non è che lo frequente attenzione quindi non ho niente da cioè non ho niente da guadagnarci perché vi dico quello che penso ma non è che lo devo dire io mauro boselli è veramente un genio del fumetto ecco grande grandissimo soggettista sceneggiatore che sta che continua a portare al successo il nostro amato tex come ma a suo tempo fece anche con zagora attenzione perché per un lungo periodo mauro boselli fu curatore in zagora ecco poi è arrivato burattini bravissimo anche burattini insomma comunque ecco questo abbiamo a che fare con un grandissimo autore e questo bruzzo riesce a rendere alla grande il soggetto la sceneggiatura di di mauro boselli guardate queste scene qui siamo nel campo dei fox dove aveva a che fare con uno stregone allievo dello stregone che a suo tempo aveva in qualche maniera comandato dietro le quinte la rivolta degli indiani del saskatchewan ecco non so se vi ricordate nella storia sulle piste del nord va beh comunque un insieme di ricordi in qualche maniera nella mia nella mia mente di lettore appassionato di tex di fumetti in generale ma di tex in particolare insomma qualcosa che non dimentico ecco e quindi questa storia pur essendo la prima parte insomma vedremo l'evolversi della vicenda mi ha molto preso e io sinceramente ve ne consiglio l'acquisto non potete non leggere questa nuova avventura di tex in terza di copertina abbiamo l'anticipazione del prossimo numero il numero 733 i guerrieri della tundra ecco qua con l'ennesima spettacolare cover del maestro claudio villa claudio villa un altro genio insomma del fumetto italiano in quarta di copertina cari amiche cari amici udite udite abbiamo la anticipazione dell'evento del secolo l'evento del secolo la ristampa una statica delle originali strisce di tex che sarà in edicola con la gazzetta dello sport a partire da sabato 6 no da martedì da martedì ecco da martedì prossimo insomma sarà sarà in edicola non sabato martedì sarà un materrato martedì vediamo un po qui dal 12 ottobre quindi da martedì da martedì prossimo potremo trovare in edicola le bellissime strisce di tex e credo che nella prima nella prima uscita ci sia anche sia la possibilità di acquistare questo raccoglitore le uscite costano 4,99 ci saranno due strisce originali e una diciamo una con della storia inedita io avrei preferito tre strisce originali però vabbè non ci si può ci si deve accontentare è sempre comunque un'operazione commerciale attenzione e il raccoglitore che non so se in edicola col con la prima uscita un raccoglitore che costa 9,90 per raccogliere appunto tutte le strisce detto questo cari amici e cari amici mi sono forse dilungato un po troppo per fare un video dedicato a un singolo fumetto ma sapete io sono molto molto appassionato a tex e quindi ci sta abbiate abbiate pazienza detto questo non posso fare altro per salutarvi ancora una volta con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore augurando nel contempo un buon proseguimento di serata oggi è venerdì venerdì 8 ottobre 2021 e dandovi appuntamento esclusivamente a voi piacendo per il mio prossimo video e come sempre alla prossima